Campione d'Italia, zona franca, è ormai una vecchia storia. Dal 1 gennaio l'enclave italiana in Svizzera entra ufficialmente nell'area doganale dell'Unione Europea. Un cambiamento radicale, voluto da Roma, che suscita dubbi e incertezze tra i 2000 abitanti che fino ad oggi hanno goduto di uno status speciale. In pratica, cosa significa? Innanzitutto che per andare in Svizzera i campionesi dovranno passare i controlli doganali. I residenti d'ora in poi inoltre saranno tenuti a pagare le accise italiane su prodotti energetici e alcolici ad esempio e alla vendita di beni e servizi per la prima volta verrà imposta l'IVA, che si chiamerà però ILCI. E se alcune delle questioni spinose come sanità e istruzione pare siano state risolte in modo perlomeno temporaneo restano ancora dubbi legati all'economia, in particolare dopo il fallimento del Casinò nel 2018 che gravò, e non poco, nelle casse comunali. Grazie per la visione!